con l'ingresso di Nuno Pina è diventato lui il mediano davanti alla difesa Getson eccolo qui, Nuno Pina apre col destro, dalle parti di... raccoglie ancora lì Kangin che prova anche col destro a lanciare mette giù Nuno Pina da schermo davanti alla difesa in questi minuti finale la scelta del giocatore della primavera del Chievo ancora Nuno Pina per Nuno Santos palla dentro, Nuno Pina pallone che sbatte lì, ancora Nuno Pina all'arca recupera la Corea, prova il grande numero lì Kangin poi sbaglia Verna arriva Nuno Espina pizzata verso Garritano non raccolta, numero 16 e il pallone una zona in cui c'è Nuno Espina la gira palla a cercare Giorgiovic poi Garritano per non averne più Gucker la mette giù distrubbato da Pina che recupera palla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti